Allora, si sente? Spero di si. Ragazzi, benvenuti sempre in questo piccolo vlog che voglio fare insieme a voi. Stasera ne parlerò più approfondito. Vabbè, benvenuti in questo vlog che voglio fare. Allora, qualche sera fa un mio amico mi ha passato un EP online di un gruppo chiamato il Dottor Zaius. Allora, volete sapere cosa ne penso io? Intanto metto a posto quella camera perché non si vede un cazzo. Cosa ne penso io? Va bene. Secondo me questo gruppo ha molto potenziale, ma molto veramente, perché sono un gruppo naturalmente padovano, quindi nella zona qua di Padova, dopo devo anche farmi un caffè, ma chi se ne frega. La taglierò a questa parte, che ha molto potenziale secondo me. È un gruppo grind core, quindi posso definirgli il grind, quindi un sottogenere del punk e del metal. È un gruppo che ha, come dicevo prima, molto potenziale. Canzoni brevi senza tanti giri di chitarre, senza tanti giri di intro, come ho detto pomposi, come fanno tanti gruppi, vabbè, che a me possono anche piacere, però nel grind secondo me non ci stanno per niente. Io li considero molto molto bravi, che a mio avviso, il loro EP potrebbe essere un secondo misantropo a senso unico di Cripple Buster, esagerò, ma secondo me è la mia opinione. L'unica pecca, vabbè, le canzoni sono molto, diciamo, sono di pochi minuti, dovrebbero farle più lunghe. Solo questa pecca hanno, però, secondo me, hanno grande potenziale. Detto questo, non ho niente da aggiungere. Ragazzi, ci piacchiamo sempre, a un prossimo video, se naturalmente qualcuno ha bisogno che sponsoriti qualcosa, no product placement, ripeto, fatemi un... ditemelo sulla pagina Facebook e vi sponsorizo volentieri qualsiasi cosa. Alla prossima e rock'n'roll! Grazie a tutti!